Osservatorio di residenze di pregio su Milano e su Roma, come al solito curato da Tirelli e in partners con la collaborazione di Nomisma, abbiamo visto nell'edizione riferita al primo semestre di quest'anno alcuni segnali positivi. Che cosa però manca a livello di sistema per dare un boost al mercato in questo segmento in particolare? Io credo che quello che manca principalmente è proprio il lavoro di team. Noi italiani non siamo tanto bravi a considerarci un paese. Quando andiamo all'estero siamo sempre grandi individualità che si muovono. E a livello italiano, secondo me, quello che occorrerebbe fare, ad esempio a livello di agenti immobiliari, è completamente mancante una piattaforma collaborativa seria che consenta davvero una condivisione delle informazioni. Oggi la collaborazione in tutto il mondo, per tutti gli agenti immobiliari del mondo, è una parte integrante, immancabile della loro attività. In Italia la collaborazione sostanzialmente non esiste, è semplicemente attivata a livello amicale talvolta, ma non esiste una modalità lavorativa collaborativa. E questo, secondo me, è una delle grandissime mancanze ed è uno dei grandissimi rischi, perché dove l'attività non è collaborativa, prima o poi qualche d'uno troverà il modo di scardinare il ruolo dell'agente immobiliare. Se io sono un proprietario e devo chiamare 50 agenzie per 50 case, ci impiego allo stesso tempo a chiamare 50 proprietari e non ho più bisogno dell'agente immobiliare. Quindi una sfida a livello di MLS, poi, in sostanza? Sì, quello che esiste in tutti i paesi del mondo, oggi ci sono MLS che sono quotati in borsa a Wall Street, in Italia non abbiamo traccia e noi troviamo grandissime difficoltà a fare passare non MLS di tutta la città, ma di pochi agenti immobiliari che vogliano aggregarsi con noi. È difficile, perché non se ne vede l'utilità. Mentre invece, per quanto riguarda soprattutto il mercato di Milano, che cosa funziona in questo momento nella vostra fascia di pregio? Beh, quello che ha funzionato direi è che abbiamo incominciato a vedere che appaiono sul mercato delle case di cui riusciamo a prendere l'incarico e eseguirli nel tempo dell'incarico, quindi nei sei mesi. Non succedeva da parecchio tempo. È ovvio che insieme a questo rimane un'offerta molto, molto ampia di case che sono sul mercato da un tempo in memore, superiore ai due anni ormai. E quelle case ne servono poco, perché o sono fuori prezzo o non hanno una qualità. Le case che non hanno qualità, in questa fase di mercato, non hanno nessun acquirente. Quelle che hanno qualità potrebbero averlo, ma a condizioni di prezzo attuali, non a condizioni di prezzo di mercati che non esistono effettivamente più. Il reprising c'è stato, sottolineavate nell'osservatorio, che dal 2008, nel momento di picco maggiore, c'è stato un 25% medio di ritocco sui prezzi, che però potrebbero ancora perdere qualcosa in trattativa, perché poi è la trattativa in questa fase che caratterizza un po' i due mercati di riferimento che dicevamo. Questo 25%, mentre in Spagna la diminuzione dei prezzi è stata una diminuzione dei prezzi delle richieste, in Italia così non è stato. La maggior parte della diminuzione di prezzo che è possibile riscontrare in sede di chiusura deriva effettivamente da una negoziazione. Il che vuol dire che soltanto gli acquirenti propositivi possono percepire questa parte. Gli altri, che stanno alla finestra in attesa che i prezzi diminuiscono, non la vedono e non la vedranno mai. E conseguentemente di quel 25% diciamo che abbiamo almeno la metà che viene da un incremento dello sconto rispetto al livello di sei anni fa, mentre i prezzi sono calati nell'ordine del 10-12% e gli sconti sono aumentati nell'ordine del 12-14%, il che vuol dire acquirenti interessati fatevi avanti, perché a queste condizioni si compra bene rispetto a quello che succedeva prima quando ci strappavamo le case. Oggi trasriamo 400.000 case in Italia, siamo arrivati da 870.000 e voglio dire 870.000 ce le strappavamo, a 400.000 non le vuole nessuno. Qualche problematica ci sarà. Anche se prima durante la presentazione dell'osservatorio che avete fatto alla stampa avete accenato al fatto che avete visto qualche garetta negli ultimi semestri a Milano. Sì, noi abbiamo una procedura per la gestione delle offerte contemporanee, non succedeva da così tanto tempo che non ce la ricordavamo neanche più, siamo dovuti andarla a vedere. Effettivamente sì, abbiamo visto tutte su case nuove, su case in carichi nuovi acquisiti, a prezzo giusto, dove il proprietario si è posizionato correttamente con il nostro aiuto e abbiamo trovato effettivamente una contemporaneità di offerte che poi per il proprietario ha voluto dire arrivare sostanzialmente al livello di prezzo che avevamo concordato. Poco poco sotto, magari l'1%, magari il 2%, quindi vuol dire una valutazione corretta iniziale è fonte di una buona possibilità di vendita successiva. Ok.